Protesta dei benzinai nei prossimi giorni. La categoria si dice già pronta a far sentire la propria voce e per il 25 e 26 gennaio è stato indetto uno sciopero. Una protesta perché la categoria non ci sta ad avere il dito puntato contro. Le associazioni affermano di aver chiesto dei confronti con il governo ma di essere rimasti inascoltati. Si legge in un comunicato che i lavoratori oltre che preoccupati sono stanchi di essere il capro espiatorio del governo che vuole insabbiare le proprie responsabilità in materia e si riconferma pronta a dialogare per rivedere una serie di questioni irrisolte che pesano sulle spalle dei gestori da anni.